Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, volevo assolutamente fare un contenuto qui sul mio canale dove vi parlavo di uno dei primi engine che ho utilizzato quando ero piccolo a dire il vero avevo circa 12-13 anni e mi divertivo a realizzare videogiochi con un engine simpaticissimo gratuito che adesso vi farò vedere perché non si trova più niente, mi sa che ha cambiato anche nome, comunque cercherò di farvi vedere online quindi troveremo insieme dei contenuti per farvi vedere appunto come creavo i miei primi videogiochi quando avevo 12 anni mi divertivo tantissimo con mio cugino vicino di casa, mi divertivo a realizzare videogiochi e un engine che realizzava in quel periodo era FPS Creator, come dice dal nome era un programma che ti permetteva di realizzare FPS ma ti permetteva di realizzare un vero e proprio first person shooter in 10 minuti, era un drag and drop, io mi divertivo avevo 12 anni quindi non è che sapevo programmare però è stato uno dei miei programmi che mi ha fatto capire quanto fosse figo sviluppare videogiochi nel senso che creavamo la stanza, mettevamo che lì c'era un nemico, che lì c'erano delle armi, che li trovi la chiave per quella porta ed ecco qui che si creava il tuo progetto FPS da poter giocare sul computer certo tutti i videogiochi sviluppati con FPS Creator nella maggior parte dei casi erano uguali per tutti o comunque chi realizzava un videogioco figo con FPS Creator era comunque un grande team che riusciva poi a personalizzare tutto questo engine voglio raccontarvi che io ho iniziato proprio da quello a dire il vero, ho iniziato da quello, dal RPG Maker infatti è stato uno dei primi RPG Maker e da lì ho iniziato un po' a programmare perché lì comunque un po' di logica c'era fino a quando poi non sono passato a Blender, che Blender non solo era un programma di modellazione 3D ma come vi ho detto anche nel video dove vi ho fatto vedere il primo gioco in 3D che ho realizzato effettivamente, lì c'era anche il Game Engine, infatti Blender permetteva di realizzare i propri videogiochi con un metodo a blueprint, quindi tra virgolette simile a Unreal Engine molto interessante, da Blender poi sono passato a Facer e lì ho iniziato a scriptare infatti lì ho iniziato a utilizzare proprio JavaScript per creare i miei videogiochi e oggi eccomi qui proprio a utilizzare Construct FPS Creator, come stiamo vedendo dalle immagini perché non si trova veramente nulla, ha cambiato anche nome era il classico tool che ti permetteva di realizzare un FPS come stiamo vedendo da questa immagine, adesso vi farò vedere anche dei video tu potevi creare delle stanze, qui mettevi ad esempio che c'erano delle porte inserivi dove doveva spawnare il personaggio ed era molto interessante perché graficamente ragazzi era molto bello per essere un engine di 10 anni fa, anche più se non sbaglio era bellissimo, c'erano tantissimi video tutorial online ed era molto interessante utilizzarlo perché in pochissimo tempo potevi realizzare il tuo FPS e giocarlo infatti ho trovato questo video online come creare un videogioco in FPS Creator in 10 minuti e guardate un po' come funziona era molto semplice e poi il funzionamento lui ha creato questa stanza poi successivamente va a creare appunto tutti i vari corridoi e continuava così cioè io mi divertivo tantissimo qui mettevi ad esempio un nemico e la cosa interessante che potevi gestire è che quando tu inserivi il nemico sceglievi il modello 3D i modelli 3D preimpostati erano veramente un bel po' poi potevi comprare dei pack online e avevano un'intelligenza artificiale quindi se il nemico aveva un'arma ti sparava se invece aveva un'arma magari bianca si avvicinava se ti vedeva sulla base di un'aria ed era molto figo nel senso che noi cercavamo di realizzare dei videogiochi completi quindi ad esempio che trovavi la chiave aprivi la porta, uccidevi quel nemico e ti lasciava le munizioni potevi proprio gestire tutte queste cose qui non so perché questo engine poi non è riuscito a esplodere sicuramente a dire il vero è anche perché il gioco che poi tu potevi realizzare era molto limitato e se vuoi creare comunque un ottimo fps bisogna lavorarci molto specialmente se vuoi qualcosa di più personalizzato come avete visto ha cliccato semplicemente il bottone play ed ecco teletrasportato l'utente nella stanza che lui ha deciso con le armi e gli oggetti che ha messo quindi le animazioni erano tutte le stesse qui adesso lo state vedendo a 2 frame al secondo ma il gioco andava molto bene ragazzi vi giuro che vedere quest'arma adesso su questo video per me fa strano perché passato tantissimo tempo e pensare che io oggi sviluppo videogiochi questa cosa è incredibile fps creator è un engine che vi consiglio assolutamente di andare a vedere vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere solo per puro divertimento perché alla fine era uno di quei programmi interessanti che adesso si è trasformato non so se fa parte dell'engine game guru non ne ho la più paleta idea a dire il vero che tra l'altro comunque a me game guru non piace completamente fps creator era uno di quegli engine che appunto 10 anni fa ti permetteva di realizzare un fps ti permetteva di esportare il tuo videogioco in X e basta e non mi ricordo se all'epoca c'erano giochi super grandi realizzati con questi engine sicuramente quello che però ti permetteva fare se eri un esperto era di poter personalizzare bene il videogioco guardate qui lui ha messo queste armi all'inizio non potevi far spawnare già il videogiocatore con delle armi a dire il vero quindi c'era questa cafonata che tu iniziavi e dovevi raccogliere le armi potevi fare appunto press enter per entrare nella porta ha creato dei nemici appena aperto la porta questi nemici disparavano come state vedendo quindi la vita si abbassava potevi fare appunto quanti colpi servivano per uccidere quel nemico era divertente vi ricordo che comunque 10 anni fa realizzare un videogioco così non era affatto semplice non c'erano gli engine che utilizziamo oggi o comunque non era così tanto facile crearne uno oggi in questo video volevo semplicemente farvi conoscere questo piccolo programma che ormai non credo esista più infatti insieme a voi oggi volevo cercarlo infatti FPS Creator non si trova da nessuna parte o comunque il sito ufficiale adesso è The Game Creators che credo sia lo stesso tool volevo semplicemente raccontarvi appunto che oggi si è molto più fortunati da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione incredibile il mercato dei videogiochi è crescito sempre di più grazie al mercato mobile sono nati diversi programmi che permettessero aiutanti appunto di creare videogiochi ed è incredibile come oggi utilizzando un engine come Unity, Construct, Unreal e così via è possibile comunque realizzare un videogioco di una certa qualità tanti anni fa non era possibile tanti anni fa ci si arrangiava con gli engine che c'erano ed erano in pochi soltanto a creare videogiochi fighi mi ricordo che uno di quegli engine che ho utilizzato e poi ci ho fatto anche diversi video su YouTube quando avevo il mio primo canale su YouTube è stato Clickteam Fusion quello è stato anche uno dei primi insieme a Construct 2 anche quello utilizzato dopo RPG Maker a dire il vero che grazie a quell'engine si potevano comunque creare videogiochi più interessanti, più importanti però imparare a realizzare quei videogiochi non era come adesso che adesso ci sono tantissimi tutorial ci sono tantissime persone che fanno contenuti online quindi oggi comunque è molto più semplice volevo parlarvi di FPS Creator un engine che ogni volta che ci penso dico che è passato tantissimo tempo interessante secondo me bisognerebbe anche analizzare perché questo engine poi non è esploso sicuramente non si è aggiornato sicuramente non ha dato la possibilità di personalizzare bene i suoi videogiochi ma c'è anche da dire che era molto limitato avere un engine che ti permette di creare videogiochi solo FPS non so fino a che punto è buono perché comunque non è che si potevano fare giochi online poi c'era gente che riusciva a personalizzare proprio i giochi realizzati con quell'engine però comunque era molto limitato se ad esempio vediamo invece engine come Construct che ti permettono di realizzare videogiochi 2D i giochi 2D se ne possono fare veramente milioni diversi tra di loro mentre altri engine come Unity poi ovviamente ti danno a te la possibilità di creare qualsiasi cosa quindi sicuramente è stato uno di questi i motivi poi negli anni a venire è arrivato anche il mobile e quindi tutti questi piccoli engine sono un po' morti vi ricordo che appunto Unity è esploso anche grazie al mercato mobile infatti circa il 50% dei videogiochi pubblicati sul Play Store e App Store sono sviluppati Unity ed è un numero incredibile ragazzi spero che questo piccolo contenuto vi sia comunque piaciuto fatemelo sapere con un commento mi piace qua sotto voi sapevate dell'esistenza di FPS Creator? se si fatemi sapere appunto che ricordi avete positivi o negativi sono molto curioso di sapere la vostra ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani ciao ciao Grazie a tutti.